... Giorno 3 Oggi mi arrivano i colori Che non ho comprato oggi ma l'altro giorno Questo è il giorno 1 Mi è appena arrivata la mail di Amazon Vuol dire che il pacco è arrivato Qua ci vuole un balletto per festeggiare L'eventualità dell'evento L'eventualità dell'evento La verità è che ho comprato questi colori perché vorrei disegnare da me il logo del programmino che voglio fare in live streaming con io Certo che se ci pensi l'equilibrio è una cosa incredibile non è non è affatto facile l'equilibrio ma anche nella vita di tutti i giorni uno deve avere spesso equilibrio in testa ma lo dico anche per me come quando ho preso il pacco Angeli Pacco Iscriviti al canale Ahец Amic Amic Da il succo d'arancia fa molto bene del ricco di vitamina c il succo d'argo il nostro canale è www.mesmerism.info si è fatto troppo tardi, è mezzanotte e un quarto vabbè, il pacco lo apro domani tanto domani è un altro giorno l'importante è mantenere l'equilibrio l'equilibrio